Il fatto quotidiano ha messo in fila le vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi. L'elenco è lungo e piuttosto disgustoso, ma vale la pena tenerlo in tasca nelle prossime settimane, quando sentirete dire che Berlusconi ha ricevuto una sola condanna e ha scontato la pena in questo processo di beatificazione che vorrebbe addirittura renderlo edibile come nuovo Presidente della Repubblica. L'unica condanna definitiva per Berlusconi è arrivata il 1 agosto 2013, quando la Cassazione confermò il verdetto d'appello a 4 anni per frode fiscale per il processo sui diritti televisivi Mediaset. Pena decurtata di 3 anni grazie all'indulto. L'ex Premier ha scontato la pena in affidamento ai servizi sociali, facendo il volontario in un istituto per anziani Cesano Boscone, per essere stato, come hanno scritto i giudici nella motivazione del verdetto, l'ideatore del sistema illecito per consentire la perdurante lievitazione dei costi di Mediaset ai fini di evasione fiscale. Però nella storia giudiziaria di Berlusconi ci sono anche le prescrizioni. Le prescrizioni sono interessanti da osservare. Il primo processo è l'All Iberia, dal nome della società capofila della Finivest Offshore. Cuore del processo era la tangente più alta mai versata a un singolo politico. 23 miliardi di lire in nero a Bettino Craxi, leader socialista, amico di Berlusconi, nel frattempo, anche lui beatificato in quest'ultimo periodo. E lì paraccaduta il denaro tra il gennaio e l'ottobre del 91, poco dopo il Via Libera, alla legge Mammi, che di fatto si limitava a cristallizzare l'esistente e mettere un sigillo normativo al duopolio Rai Finivest senza un vero tetto pubblicitario e con spot senza limiti. condannato in primo grado nel 1998 per il solo finanziamento illecito, in secondo grado il reato è già prescritto e la Cassazione, era il 22 novembre del 2000, conferma, ma scrivono, non emerge negli atti processuali le straneità dell'imputato. C'è poi il caso Lentini-Milan, il clamoroso acquisto del giocatore del Torino. L'ipotesi dei magistrati milanesi era che i 10 miliardi del Presidente del Torino per agevolare il passaggio non siano mai stati iscritti a bilancio, dunque versati in nero. Il reato viene dichiarato prescritto dalla seconda sezione del Tribunale, grazie alla solita concessione delle attenuanti generiche e alla riduzione dei termini di prescrizione introdotta proprio dalla nuova legge sul falso in bilancio, varato dal governo Berlusconi. Poi c'è la prescrizione per i bilanci Finivest 1988-1992. Poi c'è la prescrizione Mondadori, corruzione giudiziaria, il processo sulla cosiddetta guerra di Segrate che oppose Carlo De Benedetti a Berlusconi per il controllo del gruppo. Per l'ex Cavaliere, sempre grazie ad attenuanti generiche e alla contestazione di corruzione semplice e non in atti giudiziari, arriva una prescrizione. In sede civile però la CIR di De Benedetti incassa 564,2 milioni di Euro, grazie comunque alla sentenza penale che riconosceva che corruzione ci fu, nonostante poi sia andata prescritta. Prescritto anche il processo Mills per corruzione giudiziaria, con l'accusa a Berlusconi di aver pagato l'avvocato inglese, ideatore della società offshore, con 600 mila dollari in cambio di due false testimonianze nei processi guardia di finanza e Oliveria. Tra lodi, legge, ex cirielli, alla fine arriva la sentenza del non luogo a procedere, prescrizione, anche se solo in Cassazione per il legale inglese. Poi nel canale delle prescrizioni c'è il caso della compravendita dei senatori, ve lo ricordate, 2 luglio 2018, la conferma da parte della Cassazione sulla corruzione del senatore di Italia dei Valori, Sergio De Gregorio, 3 milioni di Euro per passare dal centro-sinistra al centro-destra, votando la sfiducia al governo Prodi, nel 2008. L'ex parlamentare aveva patteggiato invece una condanna a 20 mesi nel 2013. Scrivono nella sentenza e del tutto pacifico che Berlusconi abbia agito con assoluta coscienza e volontà di corrompere un senatore della Repubblica. Lo dicono i giudici della sentenza d'appello. Poi c'è il caso del nastro Unipol. La sesta sezione penale della Cassazione era il 2015, conferma la prescrizione per rivelazione di segreto d'ufficio per Paolo e Silvio Berlusconi. È la storia dell'intercettazione della telefonata, ve l'ho ricordata, dell'ex segretario dei DS di allora, Piero Fassino, e l'ex amministratore delegato di Unipol, Giovanni Consolto, nella quale si disse la famosa frase «abbiamo una banca» che venne pubblicata dal giornale. I giudici della Cassazione hanno scritto che era impossibile assolvere perché era in dubbio che il placet dell'ex Presidente del Consiglio aveva avuto efficacia determinata ai fini della pubblicazione della notizia da parte del quotidiano edito dal fratello di Berlusconi. Ci sono poi i tre processi rubi che sono tuttora in corso. Rubi, ve la ricordate, la minorenne marocchina presenta le feste di Arcore e spacciata in Parlamento dai Berlusconiani come nipote dell'ex Presidente Mubarak. Sul tema c'è una sentenza però che è significativa. Il 18 ottobre è diventata infatti definitiva la condanna di Tarantini, Giampaolo Tarantini, due anni e dieci mesi. Nella sentenza si dice che è stato condannato per reclutamento e favoreggiamento della prostituzione di donne che venivano accompagnate nelle residenze di Berlusconi. Berlusconi tra l'altro ha beneficiato anche di due amnistie, una per il reato di falsa testimonianza, cioè per aver mentito al Tribunale di Verona sulla sua iscrizione alla loggia massonica P2. Poi nell'ambito del fascicolo sui fondi neri Maccherio, uno dei falsi in bilancio contestati è stato amnistiato. Altri due andarono prescritti mentre fu pronunciata sentenza di assoluzione per la frode fiscale e l'appropriazione in debita. Infine c'è la questione giudiziaria più abnorme che è quella condanna a Marcello Dell'Utri che certifica che l'ex senatore di Forza Italia fu l'intermediario tra Berlusconi e Cosa Nostra. Questo è solo il lato giudiziario, ma non si tratta solo di giustizia, dentro c'è anche un'enorme questione morale. Poi con calma nei prossimi giorni vediamo quello politico, però tanto per capire di chi stiamo parlando, di chi stanno parlando come possibile prossimo Presidente della Repubblica. Buon venerdì.